Passiamo subito alla linea Rai Pubblica Utilità per noi c'è Alessandra Canale, buongiorno a te. Buongiorno Giuseffine, buongiorno ai nostri telespettatori. Il traffico a quest'ora è regolare su gran parte della nostra rete viaria, anche se prevediamo in graduale aumento in direzione dei centri urbani per i consueti spostamenti pendolari del mattino con l'inizio delle attività lavorative e scolastiche. Come di consueto monitoriamo il real time, le immagini ci giungono in diretta dalla 11, qui siamo nel tratto fiorentino di Sesto Fiorentino, come vedete si viaggia agevolmente senza nessuna difficoltà. L'altra immagine è alla diramazione di Roma a sud e questi sono i primi rallentamenti dall'autosole che si dirigono verso il grande raccordo anulare. Peraltro proprio in prossimità del grande raccordo anulare in questo momento è avvenuto un incidente all'altezza di via Tiburtina. Poi ci sono alcune criticità che andiamo subito a illustrarvi con l'ausilio della grafica partendo da un incidente che si è verificato sulla 13, la Bologna-Padova, tra Rovigo e Rovigo Sud in direzione Bologna. E poi è stata disposta la corsia per un incidente sulla strada statale 1 a Aurelia in prossimità di Santa Maria di Ripescia e quindi ci sono criticità. E attenzione poi sulla strada statale dello Stelvio perché c'è presenza di ghiaccio che sta provocando dei rallentamenti tra Tresenda e Stelvio. Poi nel pomeriggio di oggi e nella prima parte della giornata di domani al termine delle attività lavorative e scolastiche che è stimato un incremento della circolazione in uscita dalle grandi aree metropolitane in questo appunto in questo fine settimana ci si celebrano due ricorrenze molto sentite la festa del patrono di Milano Sant'Ambrogio domani e poi la solennità dell'Immacolata Concezione di domenica 8 dicembre. Queste quindi possibili disagi e la viabilità. Queste Giuseffine le notizie di maggiori lievo. Grazie per l'attenzione e linea a te e buon lavoro. Arrivederci. Grazie a te Alessandra. Adesso voltiamo pagina. Parliamo di sport. Ancora un oro per l'Italia.